Ciao ragazzi, oggi vi presentiamo le P324BT, che sono delle cuffie Bluetooth 4.0 pensate per lo sport. Ovviamente sono compatibili con tutti i dispositivi Bluetooth e le ho testate su iPhone, su smartphone Android e su portatile con Windows 8.1 senza problemi. Andiamo a vedere giusto le statistiche prima di aprire la confezione. Abbiamo una frequenza di risposta dai 18 Hz a 22 kHz. Abbiamo una batteria da 400 mAh ricaricabile tramite connettore USB. Appena apriamo la confezione troviamo questo simpatico astuccio che ho trovato molto pratico in cui possiamo sia riporre comunque le cuffie che usarlo comunque come dispositivo per portarlo appresso e tenere all'interno tutte le cose che ci servono. Ovviamente dalla scatola, oltre le cuffie richiudibili, abbiamo un manuale di benvenuto e il cavo micro USB per ricaricarle. Ovviamente essendo compatibile e uguale comunque al micro USB 2.0 che utilizzano tutti gli smartphone, non avete comunque bisogno di caricatori ausiliari. Le cuffie sono queste qui e hanno un costo di circa 32-33 euro. Abbiamo comunque varie colorazioni tra cui le classiche nere oppure quelle più accese colore blu, verde chiaro, viola e se non sbaglio anche arancione. Una cosa da notare è che queste cuffie sono molto leggere rispetto comunque agli altri tipi di cuffie bluetooth normali e questa parte non va sulla parte superiore della testa ma sulla parte posteriore. In pratica si appoggiano sull'orecchio in questo modo. Io ho notato che comunque sono molto pratiche soprattutto per lo sport e sono abbastanza fisse anche quando comunque si fanno delle attività abbastanza frenetiche come la corsa, i saltelli o comunque altri tipi di esercizi. Abbiamo anche la possibilità di lavare i padiglioni e è molto facile staccarli proprio perché il supporto non è a incastro ma è magnetico. Questa cosa l'ho trovata oltre che comoda, una soluzione molto semplice ma allo stesso tempo molto bella. Le cuffie ovviamente si richiudono semplicemente e qui abbiamo i tasti per passare da una traccia a un'altra oppure abbiamo la possibilità di aumentare il volume. Le cuffie si accendono premendo sul logo Artic e quando si accende il led blu e rosso significa che è in attesa di dispositivi da cercare. Ovviamente basta usare il cellulare o qualsiasi dispositivo per accoppiarlo con queste cuffie. Ovviamente questi tasti sono utili anche per le chiamate VoIP perché vi ricordo che questa cuffia permette di parlare a telefono e mentre stai ascoltando la musica se c'è una chiamata la musica verrà per il momento messa in pausa. Ovviamente anche utilizzeremo i comandi per cambiare i brandi, li utilizzeremo anche per cambiare i brand. Comunque le chiamate VoIP e trovate precisamente tutti i comandi nel manuale che esce al suo interno. Riguardo la Risa Audio sono stato abbastanza contento perché pensavo comunque che l'audio fosse di basso livello. Certo non sono a un livello come le cuffie classiche, quelle là più grandi, ma hanno un'ottima frequenza di risposta e soprattutto tendono a evitare distorsioni. Soprattutto ho notato che sono leggermente più ricchi i bassi e questa cosa comunque mi è piaciuta perché in ambito sportivo comunque si tende a sentire delle canzoni comunque hip hop o canzoni con un ritmo che comunque è più frequente sui bassi. Ovviamente per questo prezzo a mio parere sono forza le migliori della categoria sia per la praticità, le piccole dimensioni, il fatto che comunque siano facilmente lavabili e che tutto sommato siano un prodotto abbastanza pratico e ovviamente senza comunque esigere troppo da una cuffia del genere. Comunque anche gli alti sono molto nitidi e puliti e quindi per chi non è un audiofilo e comunque è fissato per la massima nitidezza su tutte le frequenze ovviamente è sconsigliato, ma per comunque l'utente medio che ascolta musica quotidianamente sono davvero ottime. Ovviamente per qualsiasi dubbio o domanda potete lasciare un commento qui sotto e cercheremo di rispondervi il prima possibile.